Ti insegno un gioco di magia completamente automatico ma veramente, veramente, veramente magico. Mescola il mazzo di carte quante volte preferisci, lo puoi far tagliare e mescolare anche ad uno spettatore, dopodiché io ho qui un mazzo di carte per fare una previsione, ma in realtà la puoi scrivere anche su un fogliattino di carta oppure dirla a voce a un compagno vicino. La mia previsione è questa qui, la metto in vista dall'inizio del gioco. Ora, mazzo di carte mescolato, farai una sistemazione così sul tavolo, ovvero tre carte larghe, tre carte un po' più vicine, cinque carte vicine, tre carte vicine e tre carte larghe. Perché questa posizione? Perché in questo modo noi avremo delle diagonali, verticali e orizzontali. Queste non ci servono più per ora. Ora, fai selezionare allo spettatore una scelta, ovvero o le diagonali, o la orizzontale, o la verticale. Facciamo finta che lui scelga questa diagonale. Vuol dire che tu tutte queste carte le metti via, non ti servono più. Queste qua le risistemi e formi altre due diagonali. Facciamo finta che questa volta scelga questa qua, vuol dire che queste le elimini. Ora se è rimasto così, puoi mescolare, puoi fare quello che vuoi, chiederai allo spettatore di toccare, anzi di appoggiare e nascondere una di queste carte, tipo questa. Fai fare così anche con l'altra, tipo questa. Vuol dire che queste due le elimini e rimani con questa carta che è otto di quadri. Incredibile, la tua previsione è otto di quadri. Come funziona questo gioco? Te lo spiego subito. Eseguire questo gioco è facilissimo. Tu puoi mescolare, tagliare, puoi far mescolare il mazzo allo spettatore. Dopodiché, quando distenderai le carte, dovrai guardare la nonna a partire dall'alto. Se non sei capace di fare alcune cose, tipo lo spread, puoi tranquillamente guardare e dire va, vediamo se ci sono jolly, così li tolgo. In realtà guardi la nonna carta e quella sarà la carta che uscirà alla fine. Quindi, ora guardiamo insieme. Abbiamo 3, 6, 9. Il jack di fiori dovrà essere la previsione. Quindi, la prepariamo o su un fogliettino di carta, oppure prendendola dall'altro mazzo. Jack di fiori. Queste carte non le devi più mescolare. Devi disporle, come ho fatto io. Quindi, 3 un po' larghine. 3 strette. Puoi posizionarle anche un po' meglio così, eh? 3 un po' larghine o 3 strette. 5 strette. 3 strette. E 3 un po' larghine. In questo modo hai formato le diagonali, verticale, orizzontale. Cosa succede? Che tu il jack di fiori, la previsione, ce l'hai già qua al centro. Rimarrà qui fino alla fine delle carte scelte. Perché? Facciamo finta che stavolta non scelga né diagonale, né diagonale, né verticale. Scelga orizzontale. Vuol dire che queste qua le salvi. Queste le metti via. E hai già qui, al centro, quella che ti interessa. Qualsiasi scelta sia stata fatta, poi devi posizionarle due sopra e due sotto, senza mai toccare questa qua. Ora hai altri due diagonali. Facciamo finta che scelga questa qui. Queste le metti via. Tu sai che il jack, la previsione è qua. O la lasci così, oppure mescoli quanto vuoi, ma non perdere mai di vista la carta che dovrà uscire alla fine del gioco. Ora c'è la classica forzatura. Gli fai coprire una carta. Se tocca questa, che è quella giusta che ti serve, il jack di fiori, se copre questa, dici ok, eliminiamole, hai scelto questa. Previsione. Se copre questa, gli dici ok, copri un'altra. Se copre questa, vuol dire che questa la elimini e vai avanti. Poi gli dici dai, alzane una, così, metti via, oppure alza una e metti via. Se per caso copre così, copre così, vuol dire che elimina e questa si è a posto. Tutto così, devi forzare. È una forzatura facilissima, tipo, dai, me ne copri una? Questa. Me ne copri un'altra? Questa. Ok, eliminiamo. Ne alzi una. Se alza questa, ok, è la tua carta. Se alza questa, ok, eliminiamola. e abbiamo il jack. In ogni caso, devi fare questa forzatura sempre tu. Ma questo è il gioco. Facilissimo? Ti è piaciuto?